Io vorrei che Casa dell'Energia si proiettasse anche verso i cittadini e in qualche modo mandasse una serie di segnali, una serie di tematiche care anche a tutto il tessuto sociale. E appunto proprio per questo Arezzo TV secondo me è fondamentale, sta diventando un pilastro all'interno della nostra attività e quindi la collaborazione è veramente vivida in questo momento. La storia che si intreccia con la comunicazione nel segno dell'innovazione porta ad Arezzo un'assoluta novità. La Casa dell'Energia, prezioso recupero industriale della ex fonderia Bastanzetti, si apre alla città e al dibattito sul suo futuro. Arezzo TV, emittente televisiva dal 1988 al fianco degli aretini, esce dai suoi studi e arriva in un luogo storico e innovativo. Una collaborazione nata da un'intuizione di entrambe le strutture che si concretizzerà in un progetto editoriale dal nome La Fonderia delle Idee. Qua dentro le idee prenderanno una forma? Sì, ci sarà questa collaborazione appunto che partirà dal mese di ottobre e ci saranno tanti ospiti ovviamente che un po' riassumono quello che è in questo momento il tessuto cittadino con le sue imprese, con i suoi personaggi che danno in qualche modo un senso a determinate tematiche. E ovviamente il dibattito vuole un po' svegliare anche tutto l'assetto diciamo. Un progetto che verrà presentato ufficialmente in occasione del secondo compleanno della Casa dell'Energia il prossimo 20 settembre, quando i locali dell'Urban Center vedranno anche l'apertura al pubblico della mostra dedicata alla Bastanzetti, in collaborazione con il fotoclub La Chimera. Pezzi pregiati della storia industriale della nostra città che tornano dove sono nati e foto delle più importanti produzioni targate Bastanzetti. Tra questi gli stampi per i lampioni dei lungarni fiorentini, la campana destinata alla torre di Addis Abeba commissionata da Mussolini, molte immagini sacre per il Vaticano e le famose maschere delle fontane di Central Park di New York. La mostra sarà preceduta dall'incontro con Umberto Galimberti dal titolo Esistenze fragili, la condizione giovanile come specchio della società che fa parte di un nuovo ciclo di conferenze promosso dalla Biblioteca Città di Arezzo. L'evento clou dove la cittadinanza appunto è chiamata a partecipare ci sarà il 20 settembre alle ore 17.30 con un lexio magistralis del professor Galimberti e poi ovviamente una mostra dedicata alla fonderia sviluppata insieme ad Arezzo TV a Piero Franchini e diciamo tutta una serie di argomenti indirizzati verso l'aspetto culturale e la connessione fra i giovani e la cultura moderna.